ciao ragazzi benvenuti in un nuovo video ciao a tutti oggi non parleremo di domotica ma vi illustreremo le più importanti nostre novità è successo cos'è successo ma sai mi sentivo strano prima ma quante novità che ci devono essere proprio tantissime sì 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 no c'è stata una ventata di novità allora per quelli che sono più affezionati al canale avranno sicuramente notato la grafica nuova siamo qui per presentarvi il nuovo nome del canale il canale rimane sempre quello tratteremo di non solo domotica ma in questo caso tratteremo della tecnologia dell'elettronica in generale esatto ragazzi abbiamo cambiato il nostro logo abbiamo deciso di cambiare il nome e di chiamarci tutto tec tutto tec perché tutto per dare un senso di italianità al canale comunque certo e tec perché appunto ci occuperemo della tecnologia in generale testeremo prodotti di svariato genere sempre lo costa al momento perché al momento stiamo finanziando tutto noi quindi esatto però piano piano speriamo di crescere nel target dei prodotti comunque saranno magari prodotti interessanti appunto per entrare magari nel mondo della tecnologia a un basso costo diciamo che questa scelta è dovuta in buona parte anche da voi ci sono state persone che ci hanno scritto richiedendo dei video tutorial piuttosto che degli unboxing di determinati prodotti tra i quali ho fatto un video tempo fa di della telecamera in mio possesso la olympus la tg tracker e avevo detto che avrei fatto video un po più approfondito di tutte le caratteristiche di questa telecamera e quindi abbiamo visto questa cosa abbiamo detto beh non tratta di domotica però è un qualcosa di tecnologico quindi perché rimanere relegati solo la domotica vediamo di ampliare un po di più l'ospetto di prodotti che possiamo andare a recensire e quindi anche grazie a voi abbiamo preso questa decisione di modificare il nome del canale e quindi prossimamente troverete su questo canale po di prodotti che non sono solo quelli di domotica comunque naturalmente non abbandoniamo il mondo della domotica no 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 appena ci sono novità o cose rilevanti beh adesso stanno uscendo tutti gli amazon eco nuovi però come funzionalità andremo magari ad approfondirlo prima noi poi se ci saranno cose particolari ve lo faremo sapere appunto per il momento non non riteniamo abbiamo visto non riteniamo di doverli acquistare comunque perché no per adesso no diciamo che ci vanno bene quelli che abbiamo poi magari cambiamo idea e qualcosina prenderemo comunque sappiate che il nome è cambiato in funzione del fatto che vogliamo ampliare la gamma di prodotti da presentarmi detto questo vi ricordiamo che qui sotto ci sono i link in descrizione legati ad amazon siamo affiliati quindi se dovete acquistare dei prodotti a voi non costa assolutamente nulla se non un secondo di click amazon ci dà una piccola percentuale la quale reinvesteremo nel canale per poter presentarmi sempre più dei prodotti nuovi lasciate un bel mi piace ragazzi attivate la campanellina iscrivetevi al canale e ci vediamo presto con dei nuovi tutorial sui gadget tecnologici perfetto ciao ragazzi al prossimo video ciao